Non c'è più caffè! Che dirai, signor Nino? Che si aspetta a voi? Sto fresco! Chi è? Pacco doppio lavazzaclè? Sì, due pacchetti insieme e più convenienti! Così mai più senza caffè! E meno male che ci ha pensato la lazza! Una bella idea! E in regalo la bellissima caffettiera carmensita raccogliendo 100 punti sulle confezioni multiple! Omino bianco super, insuperabile a tutte le temperature! Io lo uso a 30 gradi! Per questa macchia di caffè aggiungo omino bianco super e... via la macchia e i colori sempre brillanti! Io lo uso anche a 60 gradi! Per questa macchia di vino omino bianco super smacchia e sbianca di più! Io lo uso persino in acqua fredda! Per le sue tutine colorate aggiungo omino bianco super e la macchia di frutta ha sparita! E i colori come nuovi! Omino bianco super, insuperabile! A tutte le temperature! Io ho a che fare con tanta gente! E quando ho fame, divento scontrosa! Quando hai fame, scegli qualcosa che sia anche buono! Mi mangio una fiesta e tutti tornano amici! Mangia una fiesta e la vita ti sorride! Anche su Fiesta trovi i punti di Vinci Campione! Tende da sole, arcuati! Scelta dei modelli, soluzioni, tessuti, colori? Illimitata! Costo dell'installazione? Zero! Assicurazione contro furto, incendio, eventi atmosferici, atti vandalici? Gratuita! Imitazioni tentate? Innumerevoli! Imitazioni riuscite? Nessuna! Solo le tende per interni e per esterni arcuati sono firmate arcuati! Mmm, crackers, motta, buoni, tanti! E oggi, lancetti! Posate per due! Come? Punti! Tanti? Pochi! Crackers, salatini, biscotti e pan croquet motta regalano gran galà lancetti! A chi mangia motta, non restano solo le briciole! Silenzio! Quando uno ha mal di testa, ha un solo desiderio, che gli passi in un momento! Qualcuno ha un moment? Sì, io! Contro mal di testa e nevralgie, moment! E rapidamente ti passa dai laboratori farmaceutici Angelini. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Leggere attentamente le avvertenze. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? Campario's fantasy Corre l'Europa dell'industria, della finanza, della borsa. Italia oggi corre con l'Europa. Tutti i giorni, Italia oggi corre con l'Europa. Corre l'Europa dell'Europa. Corre l'Europa. Ehi, se qualcosa ti va, dai. Se è leggero tu sei, allora prendi la vita al volo. Prendila! Sì! Sì! La cosa ti va, dai. Dai! Leggero tu sei, allora sempre la vita ti sorride. Leggero così, sì la vita è così. è bello vivere con Pavesini Pavesini, sentirsi leggeri e sentirsi vivi buoni e leggeri senza aggiunta di grassi un gruppo di giovanissimi fisici penetra nel mistero dell'energia atomica Enrico Fermi, Ettore Majorana una storia vera che è diventata leggenda sono passati tanti anni l'energia atomica ha cambiato il mondo ma un giallo resta ancora inquietante perché il giovane e geniale Majorana sparisce senza lasciare traccia quale segreto è racchiuso nella sua scomparsa I ragazzi di Via Panispern un film in due parti di Gianni Amelio domenica 20 e 30, Rai 1 grazie Fatina vedi Pinocchio ha meritato la tua benevolenza è stato molto bravo e cos'è questo? il mio distintivo ed è tutto d'oro grazie di cuore il mio sogno tuo sincero ogni cuore sa scrutare la serata di Rai 1 la serata di Rai 1 prosegue con il telegiornale Sanremo International effetto notte mezzanotte ed intorni l'ospite di questa sera è Gianpaolo Cresci in chiusura di serata il programma cura del DSE ha come bue la nascita dell'alfabeto le scritture semitiche questa sera va in onda la quarta puntata partenza per un mondo nuovo un mondo esclusivo di grandi spazi e di massimo comfort dove il Servo Sterz l'ABS e il 4x4 esaltano il piacere di guida Alfa Romeo la nuova Sport Vagon è arrivata nuova Sport Vagon si porta dietro un mondo sì l'amaro Ramazzotti il piacere di vivere sognare godere amaro Ramazzotti piacere da bere ah Roberto pronto? Marco? scusa non ce la faccio essere lì tra un quarto d'ora c'è troppo traffico sono in ritardo anch'io sono ancora a Piazza Mazzini Piazza Mazzini pronto? Marco? pronto? pronto? auto-telefoni SIP comunicare in movimento telefonateci al 187 solo Jim il gorgonzola con la goccia sa intrigarti con quel suo fascino cremoso delicato invitante invernizzi Jim cremoso fino all'ultima goccia Corre l'Europa dell'industria della finanza della borsa Italia oggi corre con l'Europa tutti i giorni Italia oggi corre con l'Europa posso aiutarla? come? buonasera i socialisti al termine di una giornata cominciata con l'approvazione alla camera del decreto sull'immigrazione hanno dato stasera dopo la riunione della direzione una sterzata alla situazione politica l'esecutivo socialista ha dato mandato alla segreteria di assumere tutte le iniziative per giungere ad un indispensabile chiarimento politico di fondo il chiarimento dovrebbe iniziare con un autonomo giro di consultazioni con le altre forze politiche della maggioranza sentiamo Francesco Pionati situazione politica più serena ma ancora difficile alla direzione del PSI Craxi ha ripetuto tutte le sue preoccupazioni per gli elementi di degrado del quadro politico e dei rapporti nella maggioranza così com'è per il PSI la situazione non è più sostenibile occorre un chiarimento di fondo non rituale altrimenti ci sarà la crisi purtroppo i timori che avevo manifestato qualche settimana dietro circa un appesantimento un aggravamento della situazione politica si sono dimostrati tutt'altro che infondanti siamo perciò di fronte a uno stato di cose del tutto insoddisfacente se questo stato di cose dovesse procedere senza un cambiamento di rotta significativo e quindi un chiarimento importante io temo che provocherebbe solo dei danni dei danni al Paese abbiamo già una difficoltà a governare nella nostra bella Italia per il ritardo nella riforma delle istituzioni abbiamo delle istituzioni che camminano a scartamento ridotto e per questo avremmo bisogno di una maggioranza parlamentare di governo capace di marciare a pieno ritmo il che non è lo vedono tutti io non faccio polemiche prendo atto della realtà non mi piace nascondere la testa nella sabbia che non funziona e che quindi appesantisce ulteriormente la situazione se questo poi aggiungiamo le vicende degli ultimi giorni che da un lato hanno visto un partito della maggioranza adottare la pratica estrema delle opposizioni che è quella di praticare l'istruzionismo e dall'altro abbiamo visto il partito di maggioranza relativa che ha la guida del governo e quindi la maggiore responsabilità per mettersi di polemiche e di divisioni che non possono non ribaltarsi al di là non riflettersi sull'andamento delle cose politiche e di governo al di là delle solidarietà formali che vengono dichiarate tutto questo messo insieme dice quanto la situazione sia difficile migliorarla non si può quando qualcuno dice che non se ne preoccupa io esclamo ad alta voce che beato lui la politica estera è stata l'unificazione delle due germani il tema dominante dei colloqui londinesi tra il presidente del consiglio Andreotti e il premier britannico Margaret Thatcher accompagnati dai rispettivi ministri degli esteri i colloqui hanno rivelato che le posizioni italiana e britannica sul grande problema della unificazione tedesca sono più vicine di quel che si pensava Londra e Roma concordano sul fatto che le consultazioni sull'unità tedesca non dovranno essere limitate alle quattro nazioni garanti per Berlino cioè USA URSS Inghilterra e Francia più le due Germanie ma dovranno essere allargate alla CE e alla NATO il clima elettorale in unione sovietica si vota domenica in alcune repubbliche per il rinnovo dei soviet locali si fa di ora in ora più teso e drammatico non si è ancora spenta l'eco della sollecitazione del comitato centrale del PQS alla mobilitazione popolare per isolare politicanti e demagoghi che cresce l'attesa per la grande manifestazione dei radicali riformatori in programma per domenica Mosca ma la vigilia è particolarmente carica di tensione in Lituania dove il Parlamento che uscirà dalle urne avrà comunque il difficile compito di condurre la trattativa per l'indipendenza dell'unione sovietica le due principali forze politiche infatti il fronte popolare e il partito comunista si sono impegnate entrambe a troncare il filo con Mosca a Vilnius capitale della Repubblica Baltica del resto si respira già un'aria da post-secessione e in nessun punto della città sventola più la bandiera dell'unione sovietica si moltiplicano in Romania violenze e atti di vandalismo in molte parti del paese i giornali hanno dato notizie di ferimenti assalti e devastazioni di negozi senza che venisse rubato nulla negli ambienti del fronte nazionale si esprime la preoccupazione che questi episodi tendano soltanto a creare caos e destabilizzazione l'opinione più diffusa è che siano ancora in azione bande della sicurità della polizia segreta di Ciaucetto nonostante il contrario risponso quasi unanime di tutte le inchieste più attendibili il cartello elettorale 1 che raggruppa 14 partiti dell'opposizione nicaragüense è ancora aggrappato alla speranza di poter battere domenica nelle urne il fronte sandinista intanto la capitale è stata già preparata per celebrare una vittoria che il governo ritiene ormai di avere in pugno come d'incanto negli ultimi tre giorni la propaganda dei partiti di opposizione è andata rapidamente scomparendo dalle strade per recedere il posto a quella rossonera del fronte ma i sortileggi non c'entrano più logico cercare la spiegazione nel potere o nel prepotere come suggeriscono le opposizioni in ogni caso una mossa vincente e allo stesso tempo un rischio politico per chi ne esce accentuata almeno in questa parte proprio quell'immagine di un regime nei fatti se non nella forma a partito unico che il governo di Managua vorrebbe modificare con il voto certamente dopo la proclamazione dei risultati elettorali di questo argomento si parlerà molto soprattutto a Washington ma esso già rappresenta uno dei principali capi d'accusa sottoposti dall'opposizione al giudizio degli osservatori internazionali anche se agli effetti propagandistici si sostiene che il prepotere non basterà ad evitare ai sendinisti una clamorosa sconfitta la signora Violetta Ciamorro candidata alla presidenza della repubblica per il cartello 1 union nazionale oppositora sostiene che il partito di governo sarà travolto dal disastroso quadro economico del paese e spiega che il disastro è il risultato dell'incapacità del tentativo di imporre un sistema marxista laninista infine soprattutto da una spesa militare che in 8 anni ha bruciato il 60% delle risorse dello Stato inutili tentativi di far considerare alla signora Ciamorro l'ipotesi che l'elettorato come indicano le inchieste possa decidere di non credere alle promesse di risanamento economico fatte dall'opposizione torniamo ora ai fatti italiani lieve raffreddamento dell'inflazione su base annua secondo le prime rilevazioni il costo della vita dovrebbe far registrare un incremento dello 0,7% un tasso più elevato rispetto al gennaio scorso ma più contenuto rispetto al febbraio dell'89 il tasso tendenziale di crescita dei prezzi dovrebbe scendere al 6,2% il livello più basso degli ultimi 12 mesi Gaetano Fidanzati boss mafioso di grosso calibro è stato arrestato a Buenos Aires stava passeggiando per le strade del centro e non ha opposto alcuna resistenza alla polizia argentina l'arresto è avvenuto al termine di una delicata indagine dell'alto commissariato per la lotta contro la mafia e dei carabinieri vediamo ora una scheda sul boss da due anni aveva fatto perdere ogni traccia su Gaetano Fidanzati pesa infatti uno dei delitti più oscuri di questi ultimi anni l'uccisione dell'agente Natale Mondo Mondo infiltrato dal vicequestore Cassarà proprio nella cosca di Fidanzati per anni avrebbe riferito dei traffici di droga della famiglia della Renella guidata dal boss arrestato a Buenos Aires l'ultima condanna Fidanzati l'ha subita nel primo maxiprocesso la mafia 22 anni di reclusione per associazione per delinquere e traffico di droga del boss della Renella si cominciò a parlare dal tempo della strage di Via Relazio nel 1969 poi Fidanzati fu sospettato dal sequestro del giornalista Mauro De Mauro e secondo gli inquirenti fece parte di quel commando che a Castelfranco Veneto avrebbe dovuto eliminare un killer di primo piano di Gaetano Fidanzati si occupò anche l'allora colonnello della chiesa che lo inserì nel rapporto dei 114 un boss dunque di grosso calibro collegato con la cosca dei Corleonesi anche se in modo definito autonomo che nella famiglia mafiosa di Palermo Centro ha preso il posto che fu di Gaetano Galatolo e dei fratelli La Barbera il materiale trovato nell'armeria del clan mafioso catanese dei Puntina fa pensare che i malviventi si preparavano ad una operazione clamorosa le misure di sicurezza straordinarie adottate oggi al processo contro le cosche catanesi per proteggere il pentito Salvatore Parisi fanno ritenere che l'obiettivo della mafia poteva essere proprio lui Parisi Al 31 dicembre 1989 sono 43.168 i tossicodipendenti curati dalle strutture pubbliche o nelle comunità terapeutiche il dato è contenuto nel rilevamento semestrale dell'osservatorio permanente sulla droga istituito dal Ministero degli Interni c'è un altro dato significativo alle strutture pubbliche fanno ricorso 73 tossicodipendenti su 100 nelle isole mentre al nord lo fanno soltanto 21 su 100 con una commedia alla Svizzera una volta tanto non all'italiana si è conclusa stasera a Lausanna il processo a carico di Elisabeth Kopp ex ministro di giustizia e polizia che pur avendo tradito il suo paese con l'aver rivelato segretito ufficio a suo marito un chiacchierato avvocato d'affari se l'è cavata con il pagamento di 2000 franchi un milione e mezzo di live è stata insomma la conferma che per benissimo ed onestà di cui la Svizzera si vanta autocollocandosi ai primissimi posti nella classifica mondiale dei paesi più rispettabili è un ricordo del passato e questo nel paese di Calvino la vicenda Coppe è comunque servita a far sollevare i coperchi su tanti affari sporchi a base di riciclaggio di narcodollari di cui banche finanziarie svizzere detengono un triste primato che la Coppe non sapesse nulla degli affari di riciclaggio di cui si occupava la Sciacarci la società di cui il marito era vicepresidente quando lo avvertì per telefono che la polizia la sua polizia aveva avviato un'inchiesta sui traffici della sua finanziaria come lei ha sostenuto è poco credibile da domani la Svizzera tornerà a respirare perché l'affare Coppe va dimenticato la bella signora continuerà a percepire i suoi 120 milioni di lire di pensione all'anno come ex dipendente dello Stato il marito l'avvocato Hans Coppe continuerà ad interessarsi delle sue società finanziarie ed entrambi più che soddisfatti se ne andranno in vacanza sul lago di Garda dove sono proprietari della lussuosa villa Heberlein Giampiero Boniperti ex presidente della Juventus e consigliere della Federcalcio è stato nominato capodelegazione della nazionale italiana al posto di Giancarlo Abete Boniperti che è così rimasto disoccupato pochissimo tempo è stato designato oggi dallo stesso consiglio federale l'opera da tre soldi l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht Kurt Weild eseguita per la prima volta in Italia secondo la partitura originale sul palco del teatro comunale di Casalecchio in provincia di Bologna 50 elementi sotto la direzione di Giorgio Gaslini la musica costruita attorno al piano cresce fino a comprendere 15 musicisti suonano strumenti classici come il violoncello e il flauto e quelli leggeri come chitarra fisarmonica e benjo nella rappresentazione scenica dell'opera da tre soldi la struttura musicale passa in secondo piano la recitazione è accompagnata da pochi musicisti nella buca o spesso anche solo dal pianoforte qui invece è tutta musica essenziali commenti di Daskalici lasciati a due narratori e le note scritte da Kurt Weild nel 1928 esprimono interamente la coralità di generi diversi è una sintesi o musica totale secondo un linguaggio caro a Gaslini dalla musica popolare si passa al cabaret al jazz di allora che era soprattutto swing e dixieland c'è la canzone triviale le raffinatezze di Mozart e il rigore formale di Indemith oggi per un giovane compositore è abbastanza naturale pensare in questo modo cioè interessarsi stasera di un concerto di musica contemporanea domani sera andare a sentire della musica indiana e dopo domani andare a sentire un buon concerto di jazz insomma e via così insomma la musica è una sola con tanti è un albero con tanti rami ma in sostanza è un albero chiudiamo come di consueto con le previsioni del tempo situazione invariata all'insegna di un forte regime anticiclonico domani su tutte le regioni cielo sereno nebbie e nottetempo nelle valli del nord e del centro venti deboli temperature stazionarie mari poco mossi il telegiornale termina qui grazie per averci seguito buonasera il telegiornale termina qui posso aiutarla? come? panna acqua minerale naturale per tutta la famiglia panna acqua minerale naturale ah Roberto pronto? Marco? scusa non ce la faccio essere lì tra un quarto d'ora c'è troppo traffico sono in ritardo anch'io sono ancora a piazza Mazzini piazza Mazzini? pronto? Marco? pronto? autotelefoni SIP comunicare in movimento telefonateci al 187 la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te che forse attraverserà la ciana lontana da noi l'ascolteranno gli americani la magia della voce e del pianoforte di Amedeo Minghi raccontano 12 delle sue grandi canzoni d'amore raccolte per la prima volta in un unico disco registrato dal vivo la vita mia Amedeo Minghi su dischi, cassette, compact disc phonit ecc e novecento I am calling you can't you hear me I am calling you Volvo Nuova 460 Graffitto Dicami Forti con lo stile? Sì! Gentili con i capelli? Sì! Nuovi gel grafic ultra forti con filtro protettivo rispettano i capelli Dissegna tratto a tratto slancia ciuffa a ciuffo Gel non grassi sempre creativi oggi protettivi Crea con Grafic In diretta dal teatro Ariston di Sanremo va un rinun da Sanremo International parata di pop stars della musica d'oggi Il programma è trasmesso in stirofonia nelle zone già raggiunte da questo servizio il programma è trasmesso Stiro La prima E siamo arrivati, non ce l'avrei mai fatta senza l'aiuto di Gegè che è un ottimo istruttore di guida Un ottimo istruttore, vorrei aiutare Gegè No, io volevo solamente dire che questa che vedete inquadrata è la Opel Corsa, la macchina che è stata scelta dal comune di Sanremo e dal buon sindaco Pippione per premiare il più giovane dei partecipanti italiani al Sanremo International proprio per il fatto che questa è la macchina giovane Comunque in questo momento qua c'è un sacco di gente proprio incuriosita, tutti coloro che non sono riusciti a entrare nel teatro che è già pienissimo oggi Giusto? È stupendamente pieno, tutto esaurito per questa serata sempre di musica Sanremo International Questa terza serata dal teatro Ariston insieme a Gegè e a Elisa Allora non ci resta che dare il via alla sigla dell'Eurovisione perché siamo collegati con tutti in Europa e partiamo con Sanremo International, ci vediamo dentro in teatro, ciao Allora non ci vediamo Allora non ci vediamo Allora non ci vediamo Il sabato sera su Rai 3 Mino Damato presenta Alla ricerca dell'Arca Il programma tv più premiato nel 1989 Spettacolo, cronaca, avventura, imprese sensazionali, scoperte scientifiche, le meraviglie della natura nel rotocalco di Rai 3 In diretta dallo studio 2 di Via Teulada Alla ricerca dell'Arca Sabato alle 20.30 su Rai 3 Blu tango Signore e signori e signori buonasera Questa sera Effetto Notte è dedicato a due grandi della musica leggere italiana Mina e Adriano Celentano è dedicato ai loro duetti famosi Qualche tempo fa Effetto Notte fece una serie di piccoli programmi dedicati ai duetti di Mina Quindi abbiamo visto Mina confrontarsi e misurarsi con dei grandissimi interpreti della musica leggere internazionale E stare sempre a grandissimo livello come si conviene ad una grande artista Questa sera vediamo Mina come si cimenta e questi duetti straordinari Che sono poi e mai fanno parte della storia del varietà televisivo ma anche della musica leggere italiana Tra Mina e Celentano Cominciamo subito dal primo che è